Pronti, partenza, via! La sindrome compartimentale è una delle condizioni cliniche che emettono maggiormente a repentaglio un arto. Essa si verifica nel momento in cui un gruppo muscolare va incontro ad un processo infiammatorio ed edematoso molto intenso che ne causa un incremento delle dimensioni tali da comprimere le strutture come vasi e nervi al suo interno, provocando un'ischemia del distretto interessato che può sfociare, se non trattata, in necrosi di tale regione. Si verifica maggiormente nelle condizioni in cui il distretto, ad esempio un braccio o una gamba, è confinato in uno spazio ridotto, ad esempio in gessatura, oppure da condizioni che determinano una massiva infiammazione di un muscolo, ad esempio traumi, infezioni oppure inoculazioni intramuscolari di sostanze tossiche come alcune droghe o veleno di alcuni serpenti. In questi casi l'unico trattamento possibile è la fasciotomia, ovvero un'incisione del gruppo muscolare interessato, la cui separazione delle fibre porta ad una notevole riduzione della pressione neuromuscolare, ripristinando il flusso sanguigno e risparmiando l'arte. Grazie.